Ciao a tutti ragazzi, come state? Toglio il dito Ciao a tutti ragazzi Come state? Bella gente Ciao Si ok, ma tu lo metti piccolo E come si mette? Guarda Guarda Oppure puoi fare così Oppure così Capito? Ciao a tutti ragazzi Si, ma così Mettermo più in alto Tutti ragazzi Come state? Oggi Vedete gli occhi Faccio io Faccio io Mi papà non vuole che nessuno Ok Così Ok, ma devi mettere così Va bene Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Come state? Come bella gente Lì c'ha Posso tenerlo io? Andiamo là dietro Ma perché là ci sono i toppi E poi non mi piace Non si sa i toppi Si, però non mi piace, ci sono i serpenti Non ci sono niente Allora faccio io Vieni c'hai Io papà non vuole crepe nessuno Ma perché proprio addietro Allora ci vado Dai Non vuoi andare da dietro Allora dove devo andare? Qua Qua Allora ci devi ottenere Guarda se non è pulita No questo qua Buongiorno